Continua il successo di pubblico delle cartoline pucciniane, i concerti all'aperto in piazza Cittadella. Anche giovedì scorso, nonostante la giornata affosa, in tanti, soprattutto turisti, hanno pagato il biglietto per assistere all'appuntamento. Sul palco, le migliori voci selezionate dal progetto opera del Festival Virtuoso e Bel Canto, che si sono cimentate in una selezione di arie, duetti e concertati tratti dal trittico di Giacomo Puccini, ovvero Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi. Qui vediamo ed ascoltiamo Mariana Gubareva e Tiziano Barontini, accompagnati al pianoforte da Massimo Morelli. Il prossimo appuntamento con le cartoline pucciniane è il 2 agosto, con una selezione della Tosca. Gli eventi sono promossi da Comune, Teatro del Giglio e Fondazione Puccini.